vabbè vai vediamo il bro se c'è atti in cui sta cercando entrare al completo gg vabbè eccolo buonasera bella per il bro post ma te puoi entrare sì sì mi c'era pieno proprio sì vissi vissi oh e tu m'ha fatto paura quella che è possibile quella che è possibile è la tapparella quella a destra per chiudere quella a destra quella a destra quella è quella di sinistra io guardo è la tapparella 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 vado a vado sorriso nike sorriso nike ci sta, ci sta ci sta azz不好 게 id azz azz a ma che rimasti zone worse per quanto finisce la season? ok mi si era letteralmente spentata la bruce discord se vuoi venire anche te su discord vabbè ora è al 6% un po' caricato però vediamo quanto riesce a resistere ma perchè lo puoi lasciare in carica? adesso te stai facendo fornit? si si fornit ah che fornit si ma non in live sto registrando poi la massometto domani ah ok si è stata lì e poi la fare no era taboo non so se c'ho sonno se non la fare no ok oh comunque sono un botto chiuso dall'album eh vabbè no c'è ti giusto sto in alto di poterlo sentire di dire canzoni eh sai con ogni cosa si scuterà mi tocca rifare l'abbonamento ma lì lì sono sicuro che te lo fa fa gratis non c'è nulla sicché mi tocca rifarlo ma io buono ma che c'ho tanta voglia provo a fare quello gratis mi tocca aspettare un po' di più però ce ne ho due ora sicché capito ci 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tipo Napoli. Giusto, forza Napoli sempre. Sempre e comunque. Ecco. Grazie a tutti. Non c'ho cura, non c'ho... Fornette con il bro... Fornette con il bro... Lì certe minacce di morte, insulti, certe cose assurde. Fornette con il bro... Ok bro... Ok bro... Ma c'hai anche te? Ma chi, lei? Sì. No, lei no. Ah, me dici. Sì. Sì. Mi ha detto, ma stai dicendo a me? Ma stai dicendo a me? Io non gli ho risposto, mi sono mutato. E poi mi ha bannato, mi ha cacciato perché era un moderatore. Ma è un server... Ma è un server... Sì, un server... Traerse mi PC... Ma è un server... Poi magari era sotto a casa mia... Conosci il coppola, Davide? Mi sa di no, eh. Comprano un'auto, magari... Fanno un bordello... Bello... No, di quel coppolo conosci? No, però... O no, sono intrigante. Ok, ok. Non penso proprio. Giusto. Tu pensi? Mmh. Beh, del 3-0 però ci sta, eh. Di molto. 3-0... Si... Si viaggia. Napoli per sempre, giusto. Oh, è uno scritto... Napoli, merda, la Supercoppa non la vincete. Sì, sì. Cazzo è questo? Leonardo Borsante. Ma io, ma io, ma io, ma io. Mmh. Lo riscrivo, sì, però. Fidati. Ora facciamo una scommessa. Ma io? Leonardo Borsante. Mmh. 502... Finna di... Di... di Certaldo. 23 agosto. Cazzo non usci. Mmh. Vabbè. Ha scritto. Napoli, merda, la Supercoppa non la vincete. Su Instagram. No, ma io, ma io. vabbè poi da me c'era il risone lì alla stazione tra due neri tipo cose strane vabbè è normale da me certo aldo mamma mia vabbè sempre meglio di castel fiorentino lì non sopravvi un giorno e poi si fanno feeling mhm ok 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 ma che cazzo perché c'è un gatto con le botte vabbè con la birra ma che cazzo vabbè giusto ma che cazzo ti posso mandare un video aspetta è un po' strano allora ok ok ma che cazzo vai bravo ma c'è uno vabbè ti puoi usare la moto in casa e poi cazzo va bene cazzo che cazzo ti manda la bro cosa cazzo perché c'è un crostaceo la stavo per mettere su teams no perché ora oggi teams l'ho usato un po' troppo sicché la brossa sicché ci 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 rich contrast Siffra? 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 Siffra! Siffra? Siffra? Che czz D'čekaj Alle No 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 Ok Mi pare anche scusato Mh? Facciamo, vai, facciamo bocca Ah, ok, sì, sì Non ti sento due volte, infatti ho capito Ok, devo andare da qui Sì, 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 si è fatto Lo shop di oggi, ci vediamo Ok, si mette pronto Matchmaking annullato, qui Partita pubblica Boh, fra proprio uscire entrando No 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 Ma che dici Mi dice Matchmaking annullato Yours Non No 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 Madonna sti led, a me sono impazzito ogni giorno sti led la scuola ecco 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 la storia piena da ecco 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 io sto scuola non me la spiego mi sa dovevo spento ma metto in carica no? no ma è in carica perché prima mi si è rotto il caricatore quindi adesso non ho dovuto rimediare con questo qua ecco vabbè ho messo in carica 10 minuti fa è già 84 eh è duri eh sì ma questi 9 c'hanno una batteria super a bomba vabbè vedrai l'ho preso due mesi fa mi ha preso l'11 dopo due mesi già 99% ma se la penso io ce l'ho da gennaio scorso di un anno ti ho sentito la mia batteria è stata batteria la mia è poi 77 ma io scento però vabbè l'ho preso 8 ore è entrato? sì però faccio ma forse è perché ho inserito potassio no ok ora fa ora fa ora fa vorrei prendermi la schiena grime è bellissimo anche tipo potassio un pils è bellissimo te lo prendessi? cosa? come? potassio un pils se non lo vuoi puoi dammela a me comunque su steam c'è tipo un botto non so che danno e tipo queste carte c'è tipo il valore 10 centesimi 8 poi se le vendo tutte poi mi pio a meno un euro me la piglio però vabbè tanto meno un euro e cazzo mi prego le tengo oh 12 e 3 comunque non so se a te lo faceva ma tipo c'è stato un problema del portafoglio steam ultimamente tipo di bug non so se a te ti faceva ma mi diceva saldo tipo 2 euro e poi mi diceva il resto è in attesa oh vabbè è un po' bugato prima no infatti ho visto 2 euro il saldo ma che cazzo e poi ho fatto il ritornato a 11 12 quanto c'è sto arrivando ok timono ok vi facciamo il culo a questi scendi povera io vi perdiamo e ci spiego calcolatore di voi calcolando il vu ma questo è ah uno l'ho fatto blu oh cazzo però mi sa che mi è in gola ora oh ma siamo in monger si molto eh però si sta curando eh eccolo blu e bianco quasi ok era bianchissimo bianchissimo è entrato il blu ce l'ho fattuto ce l'ho fattuto si è anche tanto oh a terra buono dove sono morto ma sono un po' monger questo devo ancora via ma bro bro ma che cazzo ma questo non è basso minchia mi ha fatto 200 fra io c'avevo 200 non sapevo vabbè lasciamo stare minchia fra ma questo c'è il fucile e costruisce tutte e due insieme ma chi è quello entrato muovi sentate una ecce ok mentre la bestia è un mio amico ok che state a fare stiamo perdendo ah bello allora mamma mi sei scollegato il controllo mannaggia la puttana coglione perché me la parla adesso bello perché la sinistra l'ho amputata ma manda foto palla sinistra allora se non vedo non credo infatti vogliamo 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 foto manda un po' foto palla e mosse dai minchia fra minchia fra non credo oggi non lo vedo ma non credo sei un hai un tuo orso io sì che cazzo sta non vedo con sal sal piccante non entro non entro non entro non entro non entro No vabbè questo Non entra l'hit Tra poco entra il mio pugno Dentro la scrivania Spaziale 128 bro Bro 128 mannaggia 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 Procia Procia Sei un nego di merda Mi dissocio Porco dio Guarda è gay questo Guarda è gay Oh mannaggia No Due di due Dei prosciutti Guarda sto bucchino Sto figlio La figlia C'è Ma c'è sto figlio Bucchino Grandos Ma questi Ritornerà tipo qui Vabbè Già costruiscono Guarda guarda Che figlio Che figlio di troia È sto Mi sa che hanno Giusto un po' Vinto Mi sa Eccoli Tutti e due Frosci Da me Mi dissocio No non mi dire Che mi si è Buggato il cazzo Giusto Dove riavviare il gioco Porco di dio Non piangere Amore Per favore Non piangere No Non penso Madonna Fra Porco dio 38 in testa Tutto fatto Mannaggia la pezza La topa è per i topi La pezza è per i fessi La figlia è per i figli Cazzo ho detto Va 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 Sto figlio di troia Vai Mi dissocio Ecco Ehi Ma cosa dici Queste parole Ma Fai Non c'è entrato ancora Minchia bello Ci sta Ci sta Lario Entra No Non Minchia ma quanto cazzo c'è Messo Messo due secondi L'apirsi il gioco Non può entrare Non può entrare Ma che io La roba Ok Ok Non può entrare Bitch Oh shit man No ti sento sette volte zi E muda me Devo mudarlo Vabbè Vabbè No 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 un video ma chiara non parla ma ragazzi ma non ho armi giusto quindi se lei e chiara ferragni sono fedex ma le armi ce le avete già quando sponate io sono il suo fedex cazzo gli ho saltate aspetta che le vado a prendere bello 15 blu ci sta aspetta che lo vado a prendere ho detto non molla mai la gente come noi non molla mai giamalco è strong vabbè ci sta bruv so che finirà benissimo assolutamente ok oh bonnaccio oddio cazzo let's go ski ci sta ci sta ecco bello cadena no che cosa muti a catena ecco faccio l'ultimo stacco faccio l'ultimo stacco eh no perché ti fai l'ultima dose ti fai l'ultimo riccardo dose si ma sono cocaina ma c'ho la scopa posso scopare è tanto che non scopo mh vabbè sei rosario muniz vabbè ma lui scopa con i suoi nemici avvicinate dai avvicinate mi devo avvicinare va bene oh oh che si vai oh no devo ricaricare il mitagli no cazzo oh no perché quando muori di parte è buon baby vai oh no 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 No, no, no Chi è che è Marco Segato? Chi è che è Marco Segato? Il bro Quello faceva il video or No, 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 no Bene le pompe che hai Aspetta No Vabbè, ma lui c'ha altri tipi di pompe Alve, mi fai una pompa Però lasciami stare Ok Una pompa al volo, una sveltina Ah, fai il popolo Fai il popolo Ritorneremo Ritorneremo Vuoi dire una cosa Viva la libertà e viva e duce Ritorneremo Attraverso Non passa È passata È passata È passata E invece è passata Fatti vedere Oh merda Ritorneremo Ritorneremo Eh ma questo build Ma che vuole fare Vabbè dai Te non vuoi gestire la libertà Te vuoi essere ammazzato Giusto Vabbè Ho penso proprio Ho penso proprio Vabbè Cazzo di questa mappa Cioè io compro per la libertà E tu che cazzo fai E tu che cazzo fai Profani tutto Comunismo Comunismo No al cons... No al comunismo Sì al consumismo No Raxismo Sì Raxismo No No reaction Vabbè Io stacco No l'ultimo 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 Eh ho già fatto Al tempo 4 Vabbè però io Vado a letto Un po' presto Vabbè Ne morirai ferma Ti morirai ferma Se vuoi Domani Dopo Cina Penso Ma te tagliardi Flavio Ma stacco Cazzo di cazzo Non è vero Non è vero Allora Ho già dato La manutenzione Ero il giocappado E così Per giocare